buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti avevo mancato il click abbiate pietà di me oggi ultimai di ritardo ma anche ultimai di luna quindi siamo contenti lo stesso e siamo molto carichi perché bitcoin è lì che da qualche segno di non lo so voler recuperare voler ripartire un po e nel frattempo anche le altcoin sono belle cariche poi sono sicuro che dopo la live di ieri sera avrete un sacco di cose da chiedere e quindi secondo me avremo daremo più importanza alla parte di domande a quello che ho intenzione di fare oggi infatti vi ho raccolto le solite tot notizie che non sono tantissime a dire la verità andremo ad approfondire magari alcuni concetti trattati nel video di ieri in particolare ho visto che vi siete super appassionati alle curve wars e alle convex wars e la cosa non può che farmi piacere perché al momento almeno non si parla di di pump and dump e di robe del genere ma si parla di vera analisi fondamentale cioè ciò che accade dietro le quinte della defaie dove ci sono i grossi giocatori e quindi ripeto andremo ad approfondire certe tematiche risponderò alle vostre domande sul tema e farete voi tutta la live di oggi la farete voi io adesso sarò veloce perché lato analisi grafica lato bitcoin e di intorni non abbiamo tantissime cose da dirci in verità perché come vi dicevo abbiamo un po di domanda finalmente domanda che nasce tra l'altro su una zona da una zona molto importante che è il nostro range low 47002 e sotto si vede meglio sul settimanale guardate aspettate che zoom un po così lo vedete bene anche voi eccoci allora guardate noi avevamo come livello di riferimento i nostri 47002 perché vedete nasce prevalentemente qua e anche in passato se si va a vedere il giornaliero ora come ora è stato riconfermato da questo vedete questa candela settimanale che ha avuto le due shadow che hanno spazzato proprio all'interno di quell'area e quindi ha delineato quello che è un po un range un canalino nel quale si crea quella fase di lateralità postuma al dump che c'è stato dai massimi quindi alla prima leg down prima leg down candelina di arresto che va a creare il il range finché ci muoviamo nel range siamo nella fase di pausa appunto post primo primo ritracciamento dove buccheremo il range poi sarà il sarà quel fattore che va a determinare se continuiamo ribasso oppure se facciamo uno storno rialzista come mai è importante beh perché se continuiamo a ribasso con tutta probabilità andiamo a finire come primo target in questa zona 40 42 e andiamo a fare un equal low l'equal low abbiamo detto significa purtroppo avere una struttura non fortissima cioè significa che la domanda non dipende bene soprattutto perché poi c'è da capire dove si farà l'ai e quindi le reazioni dell'offerta di nuovo l'aggressività dell'offerta ma ahimè si vede abbastanza bene che probabilisticamente andando a fare immaginatevi un low qua diventa un pelo complicato un pelo difficile e quindi meno probabile in termini appunto statistici ritornare a fare un high pari al precedente e fare equal low e equal high oppure higher high ancora meglio ma ancora meno probabile sarebbe il miglior scenario per avere un esito tendente comunque al bullish mentre se si va a fare un lower high con un equal low capite bene che poi c'è questo rischio di fare un triangolo ribassista e di andare quindi a distribuire pertanto sarebbe meglio ripeto vedere un bel higher high e l'higher high scusate higher low il che significherebbe che questo range lo rompiamo a rialzo andiamo a prenderci 52.000 53.000 quell'analisi che abbiamo fatto l'ultima volta in sostanza e confermiamo il fatto che questo diventa quindi il nostro higher low per il momento rompiamo qui andiamo a cercare l'high in quel caso anche se facciamo un lower high capite che la struttura è differente perché partiamo col nostro higher low e quindi andiamo a fare un possibile triangolo accumulativo che dà un'impronta molto migliore a tutta la situazione questo è un po' il quadro generale di bitcoin lo stesso che abbiamo visto le ultime volte ma con la leggera differenza che finalmente se prima vedete avevamo il nostro downtrend e l'ammorbidimento l'arrotondamento del downtrend stesso adesso abbiamo un ulteriore conferma data dalla candelina di ieri che non è niente di eccezionale però fa vedere che c'è domanda quantomeno intenzionata a difendere questa zona e quindi la zona 46 47 mila è diventato un po il nostro baluardo che dobbiamo difendere con i denti e con le unghie mi raccomando bitcoin non te lo perdere poi che altro possiamo dire sul mercato beh ve l'ho detto le altcoin hanno avuto tutte un bel rimbalzo con la dominance quindi che è rimasta appiccicata alla sua zona di low anche lei tac vedete e c'è da vedere qua in che direzione ha intenzione di andare perché anche qua si gioca il prossimo la prossima fase ok alt btc è sempre lì la lotta siamo all'interno di questo range ormai da mesi e il 40 per cento il range low e c'è da capire se come al solito una volta raggiunti i livelli così estremi della dominance rimbalzeremo e le altcoin periranno di nuovo contro btc oppure se stavolta sarà per la prima volta nella storia avremo un ulteriore lag down della dominance e quindi perdita di terreno di btc rispetto alle alt il che significherebbe vedere un'estensione delle alt soprattutto rispetto a btc mai vista perché vi ricordo che questo livello è esattamente il livello non so chi di voi c'era al tempo nelle cripto è più o meno vedete il livello che avevamo nel gennaio 2018 che era la fase di massima euforia assoluta quando le altcoin avevano fatto numeri veramente veramente folli è vero la situazione adesso è ben diversa perché dietro le altcoin non c'è più solo mera speculazione e meri pump and dump ma abbiamo del valore abbiamo la defi abbiamo i metaversi abbiamo gli nft il gaming una serie di settori comunque che vuoi o non vuoi macina utile genera utile e i layer one i layer two tutti utilizzati ripeto genera utile e di fatto ha valore intrinseco è una differenza non da poco rispetto all'anno 2018 e sono passati soltanto tre anni quindi questo è molto bello comunque non voglio divagare più di tanto questo è il quadro attuale della situazione e dopo andremo a esaminare meglio alcuni grafici quindi anche se volete quello di btc anche se non c'è molto altro da dire ho qualche altcoin che vi potrebbe interessare per ora ritorno su btc che porta bene lo tengo qui in particolare su btc ci tengo alla chiusura settimanale mi piacerebbe vederla allora se come minimo all'interno del range quindi andrebbe bene pure dov'è ora se proprio vogliamo dare il meglio sarebbe bello vabbè ovviamente il candelone che ti chiude qua sopra sarebbe fantastico ma anche riuscire a recuperare vedete un po il baricentro di questo range quindi superarlo chiudere qua sopra e quindi chiudere in engulfing bullish anche rispetto alla candela della settimana scorsa non mi dispiacerebbe perché creerebbe un possibile costrutto di bottom perché se qui abbiamo un bel cluster e andiamo a chiudere qua potremmo poi andare a fare una cosa di questo tipo e ripeto creare un costrutto di bottom anche abbastanza forte il che aumenterebbe notevolmente le possibilità che questo diventi un heirloom benissimo allora andiamo con le notizie le pillole le cose che sono successe partendo da da dove partiamo ci sono un bel po di cose partiamo da un airdrop dai che doveva essere l'ultima ma ne parliamo per prima si chiama stargaze in realtà è già da un po che c'è questa notizia ma io l'ho scoperta da poco e quindi io ve la condivido perché non mi costa nulla dirvelo e non vorrei che qualcuno magari se la perde perché ha un airdrop sempre per gli staker di atom so che ultimamente molti di voi hanno iniziato a seguire atom io per primo e forse anche il motivo lo spero almeno per cui in tanti lo stiamo iniziando a seguire e di fatto è stato fatto uno snapshot aspettate che vi dico quando tac the airdrop allora vediamo eccolo qua l'undici di ottobre scorso chi è interessato a questo airdrop ovvero chi ha diritto a questo airdrop gli staker di atom almeno 5 atom in staking e gli staker di osmo osmosis almeno 50 osmo in staking gli altri riguardano i validatori quindi ci interessa meno e basta quindi se avevate in staking atom con almeno 5 atom messi in staking il che vi ricordo non vuol dire su exchange non se vi interessano gli airdrop di atom di cosmos non mettete i vostri atom in staking su piattaforme centralizzate perché ve li giocate ok per ottenere gli airdrop di atom dati dallo staking di atom vanno messi in staking delegandoli dal proprio wallet su un validatore tra quelli disponibili quindi mi raccomando è importante perché ad esempio con desmos molti mi avevano detto ma io ce li avevo avevo gli atom su crypto.no i luna erano no i cro scusate perché c'erano anche lo staking di cro e ma io ce li avevo su crypto.com non vuol dire staking staking vuol dire che stai mettendo in sicurezza la chain quindi delegando le tue coin a un validatore che appunto crea blocchi altrimenti non è esattamente staking per andare a verificare se siete legibili per l'airdrop comunque c'è stargaze.zone.airdrop vi incollate l'address qua dentro e controllate l'airdrop non c'è ancora non si può ancora claimare si potrà claimare quando la piattaforma stargaze che giusto per dirvelo è una piatta un mercato nft che lancerà su cosmos raggiungerà la fase 2 fase 3 non mi ricordo eccolo qua phase 3 later in the year il che significa eccola allora vedete è diviso in fasi abbiamo la fase 0 quindi il lancio della chain la fase 1 gli lp su osmosis e gravity dex che ci sono già quindi secondo me siamo alla fase 1 fase 2 la governance una proposta della governance per creare l'inflazione quindi immagino per iniziare a rilasciare nuovi token e poi la fase 3 il lancio del mercato nft quindi il lancio immagino della piattaforma in pompa magna Q1 2022 mi raccomando sul pezzissimo poi cosa abbiamo? ah ecco questo è anche importante se vi interessa BitMEX lancerà il suo token io credo che potrebbe essere interessante anche proprio in termini speculativi e lo si può ottenere anche con relativamente basso sforzo quindi io vi condivido anche questa cosa BitMEX in passato era l'exchange dominante per quanto riguarda i derivati poi è stato mangiato diciamo ha fatto alcune mosse sbagliate lato compliance soprattutto si è mosso tardi col KYC quindi ha ricevuto sanzioni questo l'ha rallentato molto poi sono emersi i competitor è arrivato Binance è arrivato FTX è arrivato Bybit e gli hanno mangiato un po' il mercato e quindi BitMEX è rimasto parecchio indietro adesso non so esattamente andiamo a vedere sul volume monitor di FTX non so esattamente a che punto si trovi BitMEX come volumi dov'è? non c'è qua BitMEX eccolo quattordicesimo purtroppo non benissimo va bene non ha il mercato spot per ora neanche un miliardo al giorno ai tempi d'oro ne faceva tre o quattro al giorno ed era praticamente l'unico exchange di derivati esistente sulle crypto e tuttavia insomma lancerà il suo token e lancerà anche il mercato spot quindi vediamo se riuscirà a rinascere dalle ceneri oppure no però per ottenere il suo token è possibile farlo in vari modi allora il primo modo se siete nuovi utenti registrarvi e fare il KYC quindi relativamente poco sforzo 5 token più 10 USDT così vabbè e poi facendo trading se lo si utilizza quindi fino al 25% delle trading fee si possono tenere indietro in token BMEX si chiamerà ci sono dei livelli quindi penso in base ai volumi c'è scritto però che verranno rilasciate le specifiche di questi livelli anche del white paper del token all'inizio dell'anno prossimo quindi in gennaio fino al 25% e poi scillando quindi io ve lo sto scillando e se lo scillate potete ottenere anche voi un po' di token io vi scillo istantaneamente proprio il mio referral link aspettate che lo recupero me l'ero segnato qui proprio per lo scopo mannaggia dov'è eccolo tac 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 quindi se vi interessa questo è e potete ottenere il token in queste tre modalità poi torniamo on chain andiamo a parlare di tectonic che è il money market su Kronos doveva lanciare oggi ha lanciato oggi ma con qualche problemino tecnico se infatti su twitter andate a vedere tectonic tac eccolo vedete che oggi hanno tweetato proprio stamattina che avevano qualche problema c'era un po' di ritardo nuova data di lancio domani domani mattina in particolare tra le 6 e le 9 utc quindi tra le 7 e le 10 ora italiana e poco dopo il pool tonic che è la la coin di tectonic usdc andrà live su vvs finance immagino bello incentivato e due ore dopo andranno live appunto gli incentivi sia su questo pool che su tonic su tectonic stesso cosa vuol dire vuol dire che come suave quando sapete soprattutto all'inizio borrouare e mettere a collaterale mettere liquidità faceva permetteva di farmare il loro token oppure il token matic su polygon avax su avalanche insomma c'erano varie partnership in questo caso si potrà farmare il token tonic andando a mettere liquidità o borrouando sono sicuro che ci saranno degli incentivi interessanti ho letto che gli incentivi andranno avanti per se non erro 60 mesi aspettate che lo cecchiamo allora l'avevo letto mi pare in questo thread vediamo se è giusto 60 mesi esatto il 32% della supply di tonic sarà diluita in termini di incentivi quindi non è esattamente il token che vuoi holdare secondo me quanto meno all'inizio ma sicuramente si farmerà alla grande questo c'è poco da fare e che altro si può dire beh che questo secondo me darà un bel boost alla chronos chain perché la chronos chain a parte che sta andando alla grande a prescindere perché se noi guardiamo già con i soli primi dex dunque eccola qua è salita guardate è pazzesco un miliardo e sei praticamente solo con dex e e ottimizzatori quindi e auto compounder intendo quindi immagino che il money market gli darà un boost pazzesco queste sono anche qui notizie fondamentali analisi fondamentali che ci fanno capire quanto cresce un ecosistema quindi questo potrebbe impattare su CRO in maniera positiva nel tempo questo non vuol dire che il prezzo domani salirà o tra una settimana salirà queste analisi fondamentale vi ricordo è differente dal dire il prezzo salo il prezzo scende è il valore di un protocollo e di una chain un protocollo che ha già accumulato insomma quasi due miliardi di liquidità senza un money market che adesso lancerà il suo money market secondo me avrà scalerà ecco mi aspetto una cosa di questo tipo quindi sempre occhi puntati sulla Cronos Chain in quanto è una delle chain che quest'anno ha spinto veramente tanto di più oserei dire e nel 2022 sono sicuro continuerà a spingere poi cos'altro abbiamo ecco torniamo adesso nel mondo legacy o meglio su Ethereum nel topic di cui abbiamo parlato ieri quindi le cosiddette curve wars le curve wars che diranno aspettate tac che in sostanza vedono come protagonisti i vari protocolli DeFi che si menano si picchiano proprio per ottenere i token CRV e CVX il motivo ve l'ho spiegato ieri in sostanza il potere di voto che questi token danno è inestimabile per i protocolli stessi che anziché andare a fare i liquidity mining con il loro token diluendolo dicono beh io mi compro i voti io vado a fare il bribe su curve mi compro gli incentivi che li reindirizzo il mio pool e quindi vado a dare vado a tirare liquidità con i token degli altri cosa c'è di più bello direi assolutamente niente ed è più efficace ci sono degli studi oggi vi ho linkato anche su telegram alcuni articoli per approfondire che fanno vedere proprio quanto sia più economicamente efficiente quindi proprio capital efficiency il bribing rispetto all'emissione di token per fare liquidity mining questo sta finendo sugli occhi di tutti di tutti i principali protocolli soprattutto su etere un chiaro perché curve il grosso della liquidità è lì e questo fa sì che loro vogliano combattere per il potere su curve perché più potere hai più reindirizzi voti e quindi ricompense al tuo pool e sono nate addirittura delle dao una delle quali è questa che secondo me è interessante si chiama redacted cartel ve ne ho parlato ieri e sostanzialmente è una di quelle classiche dao alla olympus dao per capirci quindi raccoglie capitale con i bond il metodo del bonding tu vai ad acquistare il loro token a sconto in cambio gli dai liquidità sotto forma di qualcos'altro hanno raccolto tre token nell'evento che si è chiamato liquidity bootstrapping event ovvero l'evento di lancio a tutti gli effetti hanno lanciato puntando a raccogliere capitale sotto forma di aspettate che adesso vi faccio vedere anche un po' più di dati sotto forma di cvx crv e home e sostanzialmente il risultato vi volevo far vedere insomma qualche aggiornamento anche in tempo reale durante il lancio dello stesso però vabbè ve lo faccio vedere da qua che si capisce forse meglio hanno raccolto 73 milioni durante il liquidity bootstrapping questo giusto per non lo so in due giorni giusto per dire e lo hanno raccolto praticamente un terzo un terzo un terzo in termini di controvalori in dollari in cvx crv e home allora innanzitutto una delle parte dell'analisi fondamentale che vi ho fatto ieri era ovviamente investire in queste cose è speculativo perché sono ad alto rischio è tendente al gambling un po' come wonderland come approccio ma questo cosa fa cioè come dire io non voglio investire nella DeFi XYZ investo in Ethereum che è la piattaforma sulla quale si crea la DeFi e qua si può fare un ragionamento simile cioè queste DAO che arrivano vogliono sbalangare capitale per prendersi a pugni sul diritto di voto su curve convex io investo in curve convex faccio molto prima così se loro si picchino pure magari una vince una perde una guadagnerà una perderà e il token di una pompa un altro dump io non mi espongo a quella volatilità ma resto sul valore fondamentale diciamo quindi curve convex il fatto che ne vogliono accumulare così tanti ma non per damparli per loccarli perché vanno loccati per avere potere di voto la dice lunga su tutto questo è questa analisi fondamentale al massimo della sua potenzialità secondo me l'interesse attuale nel mondo della DeFi è qui ok quindi piuttosto che seguire il pump and dump di turno il metaverso che fa per 10 e poi va al meno 90% per fare dei ragionamenti di lungo termine secondo me è più come dire è un po' una strada migliore a mio personalissimo parere questo per darvi una piccola intro su che cos'è Redacted l'obiettivo è proprio quello andare a ottenere influenza a creare questa DAO che tra l'altro è in partnership molto forte con Olympus DAO cioè ci sono molte sinergie e alcuni dicono che addirittura un suo braccio destro in sostanza qualcosa del genere ma l'obiettivo è creare capitale che ha lo scopo di centralizzare è brutto dirlo però un po' cercare di centralizzare in sé l'influenza del mondo DeFi qui nasce anche il discorso filosofico ma allora la decentralizzazione va al diavolo sono dinamiche politiche sociali che esisteranno sempre non puoi evitarle queste l'accentramento del potere le lotte di potere cioè tu puoi decentralizzare tutto però queste non le puoi evitare perché di fatto è ovvio che arrivano i protocolli che cercano di fare i furbi e cercano di ottenere potere sul mondo DeFi e quindi insomma è una dinamica che non puoi evitare va seguita va studiata va capita e va usata a proprio vantaggio quindi capirla come da investitore capirla e cercare di seguire i cosiddetti smart money e questo per dire che ecco hanno oggi hanno messo in piedi la prima strategia su CRV e in sostanza questa strategia punta a mettere a rendita i loro CRV che sono 25 milioni di dollari questa parte qua vedete la parte arancione tac e come funziona la loro strategia su CRV che è anche interessante da un punto di vista di didattico perché chi vuole accumulare CRV metterlo a rendita questo è un metodo abbastanza ottimale ovvero i CRV loro li dividono in due in parte li mettono nel pool CVX CRV CRV su curve e è un pool incentivato abbastanza spinto aspettate che magari lo andiamo anche a recuperare così vi faccio anche vedere dove si trova nel frattempo adesso devo loggarmi sono fuori da metamask e l'altra parte la trasformano cioè i CVX CRV li mettono direttamente su Convex e li mettono in staking e poi in entrambi i casi loro loccano su Convex vedete ciò che ne viene fuori e vanno a utilizzare i bribe di Votium vi ricordo tra l'altro che domani se non erro su Votium arriva un altro giro di acquisto di voti vedete 23 dicembre stanotte a mezzanotte e devono essere già loccati i CVX i VLCVX che sono quelli che hanno il potere di voto ma minore i PY per andare poi a a vendere il proprio voto uno li locca vende il proprio voto vediamo chi cercherà voti domani nel round di domani qualcosa mi dice che ci sarà Daniele anche domani o vediamo chi ci sarà e in sostanza tu ottieni i loro token che loro ti offrono in cambio dei tuoi voti e un APY per te molto alto l'ultimo giro era più del 60% e quindi questo è una strategia che dunque aspettate eccola con 25 milioni gli rende più di 35k al giorno in CRV e questo appunto soltanto su CRV poi su CVX faranno una strategia simile ma la cosa interessante è che alla fine finisce tutto staked on convex il che vuol dire CVX locati per sempre 4 anni di 4 anni in 4 anni e poi il tutto finisce su convex di nuovo loccato per avere potere di voto su Votium e andare a ottenere i bribe da lì quindi abbiamo una forte come dire un supply shock togliamo offerta da CVX e da CRV questo è un po' il punto da portare a casa e un'altra cosa che va in questa direzione è un upgrade che è uscito proprio ieri sera dopo tra l'altro il video che ho fatto perché non l'avevo ancora letto che mostra come convex si espande includendo anche Frax Frax magari ne parleremo in un video a parte è un altro protocollo DeFi che ha la sua stablecoin algoritmica e FXS è il suo token di governance FXS ha un modello simile a CRV che lo puoi quindi loccare in DFXS fino a 4 anni uguale a CRV come logica e quindi arriva convex e fa guarda si sposa alla perfezione col modello che abbiamo già cosa facciamo? Facciamo il nostro CVX FXS dove chi vuole può andare su convex rinunciare al potere di voto di FXS ottenere il CVX FXS uno scioglilingua dannatissimo con un APY folle perché ti dà il massimo boost possibile vi ricordo che su CRV se si va a mettere in staking su convex si ha qualcosa come il 60% di APY allora aspettate che eccolo qua il 54% di APY trasformando CRV in CVX CRV ok e poi insomma questo è un APR scusate con l'auto compounding si pompa ancora di più e lo stesso su FXS si arriverà ad avere un boost immagino simile e il potere di voto di no no dove sei aiuto qua il potere di voto a cui rinuncia chi va a dare FXS a convex indovinate nelle mani di chi va esattamente di chi ha IVL CVX quindi convex CVX ottiene potere di voto sia su Curve che su Frax non male direi quindi molto interessante seconda cosa il pool CVX e TH incentivato che era su Sushi migra su Curve per avere ancora più liquidità tra CVX e TH così si rende liquido anche il mercato di uscita da CVX di ingresso e di uscita in effetti tutto su Ethereum quindi purtroppo sì ci sono delle fee abbastanza alte questo è quanto giuro non vi parlo più di Curve convex per oggi a meno che non me lo chiediate espressamente l'ultima cosa che vi volevo dire era questa ovvero che è stato lanciato VarenX si chiama che è un DEX crosschain che funziona grazie a REN c'è dietro REN ne abbiamo parlato nella puntata del corso di DeFi sui bridge di REN dove tu puoi brigiare Bitcoin dalla chain Bitcoin a Ethereum Polygon Arbitrum da BTC a REN BTC e utilizzando proprio REN su VarenX guardate che figata tu puoi scambiare da Ethereum vari token varie coin a BTC a Luna a Doge addirittura quelli di REN però la cosa figa è che puoi saltare tra blockchain cioè tu da ETH puoi scambiare gli ETH con BTC nativi non REN BTC attenzione sulla blockchain Bitcoin in maniera decentralizzata bomba bomba atomica questa è comodissimo perché se uno ha Bitcoin e vuole andare a brigiarli direttamente su una chain ah no qua vedete ok BTC no la partenza è REN BTC quindi no non ah ma perché forse sono su Ethereum ma perché allora no a volte bisogna controllare perché a volte ti seleziona BTC a volte REN BTC ma forse come punto di partenza perché non si può partire dalla blockchain Bitcoin forse si parte soltanto da partendo dalla rete Bitcoin verso la rete Ethereum si che si può da BTC scambia a ETH si si può non lo so forse un problema di UI comunque no la cosa bella vi diceva che non per forza bisogna passare da REN BTC cioè si può anche utilizzare le coin native ed è estremamente comodo vedete questo scambio passa dalla REN WM partendo dalla rete Bitcoin verso la rete Ethereum e qui si connette immagino il portafoglio Ethereum Metamask vediamo ti chiederà di andare a mandare i BTC a generare esatto 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 si mandano i BTC a un address gateway che in sostanza te li riceve ti genera i REN BTC farà uno scambio REN BTC e TH su qualche DEX tu non vedi niente a te arrivano gli ETH sul tuo wallet è una figata pazzesca questa secondo me non l'ho ancora provato ho letto opinioni positive poi se c'è dietro REN tendo a fidarmi perché REN è un bridge tra quelli più solidi ma non l'ho ancora provato però visto che i tassi di cambio sono anche abbastanza onesti quindi non è affatto male bene anche perché poi REN Minta non è che si appoggia a pool di liquidità poi i pool di liquidità a cui si appoggia sono REN BTC e altro che sono sempre estremamente liquidi questo è quanto tac quindi ora possiamo passare alle vostre domandozze direi no Convex è il fondo pensione per i giga brain è una roba del genere anche perché ti permette di ottenere delle rendite mica da ridere ma anche su cioè al di fuori di questi giochi di potere di CVX di CRV e quant'altro ci sono alcuni pool ad esempio l'avevamo visto in passato il pool sull'euro boostatissimo per adesso dov'è? no non era questo era il 3 euro dove sta? dove sta? dove sta? 3 euro guardate 40% di APR APR esattamente perché è boostato da Angle e poi insomma c'è un po' di boost anche di di CVX di CRV tutte le varie parti che ci piacciono moltissimo e poi guardate il boost crescerà perché probabilmente hanno hanno acquistato un po' di voti anche loro perché accresce proprio la parte di CRV e CVX di boost e quindi niente male ed è sull'euro un altro che sta spingendo parecchio su questi giochi di potere qua è Wormall che sta incentivando i suoi pool a manetta veramente a manetta e comunque vabbè non andiamo off topic c'è il pool il 3 euro pool è interessante per ottenere una rendita su euro neanche troppo impegnativa decisamente interessante decisamente alta ma su Ethereum con le fidi Ethereum ciao Luca incuriosito ieri dato ma oggi ho cercato strategia o tutorial materiale da suggerirmi allora in che senso cioè strategia o tutorial perché cioè non ci puoi far tanto con Atom lo metti in staking oppure lo metti su osmosis al momento quelle sono le due possibilità di rendita su Atom staking rende beh ha gli airdrop e rende tra il 10 e il 15% mi pare mentre su osmosis ci sono alcuni pool interessanti eh lì allora andiamo a vedere un video su osmosis potrebbe valer la pena farlo allora c'è il nostro Kepler mi devo loggare su Kepler allora Pulse eccoli qua dunque beh Atomosmo che è quello più liquido con un APR o era sul 100% 60-70 qualcosa del genere no 113 scusate come non detto Atomosmo poi abbiamo Croatom c'era che non era affatto male 59% poi vabbè con Atom c'è praticamente una coppia con tutte le altre coin del mondo IBC Atom Juno Atom NGM Atom Atom Regen Atom e EUR anche anche se non sono fan delle coppie stable coin stable e coin intendo però 70% di APR non è neanche malaccio Luna Atom che però è molto basso l'APR altrimenti anche su WWS se non erro ci sono dei pool c'è il pool Croatom se non ricordo male fatemi un po' vedere qua Kronos switchiamo allora farms Croatom 103 non male 133% e Subify il nostro auto compounder secondo me è anche un po' bustatino andiamo a vedere secondo me è capace di essere l'APR quello lì insomma un APY di qualche volta tanto ci sarà vediamolo Atom Croat 260 beh eccellente direi quindi questi sono un po' i modi di mettere a rendita Atom ecco per capirci i modi migliori il problema è che se lo metti su come dire WWS o Bifi non ottieni di airdrop li ottieni solo in staking ma in staking hai un APY minore quindi la domanda è vuoi di airdrop o vuoi Atom puro in realtà Atom puro no perché lì è Atom Cro quindi sei esposto anche su Cro devi holdarle entrambe e la domanda dipende anche da quello quindi se vuoi solo Atom c'è lo staking se vuoi Atom e qualcos'altro perché holdi anche l'altra coin c'è Osmosis oppure WWS Bifi queste sono queste sono le possibilità poi come si investe su Curve e CRV c'è su Binance anche volendo CRV anche su Binance Ellipsis come lo vedi risalirà Ellipsis purtroppo è la versione brutta di Curve perché è un po' sulla Binance Marchain dove c'è meno interesse a fare questo gioco di potere è la stessa cosa di Curve cioè è endorsed da Curve è fatto proprio da loro ma purtroppo vedete il TVL è più basso un fork proprio un fork autorizzato di Curve il fatto è che qui non cioè non ci sono gli incentivi che ci sono su Ethereum e quindi non sta cioè sta meno in piedi non lo sto neanche seguendo più di tanto proprio perché il grosso della DeFi è su Ethereum ecco quindi questo discorso vale dove c'è liquidità poi dunque 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 vediamo dove siamo finiti voglio mandare i miei BTC fuori dal mio exchange a fare rendita chiedendo un prestito di UST e mettendoli su Anchor quali sono gli step necessari da seguire evitando le Ethereum fees allora da BTC a collaterale per prestito di UST si potrebbe fare correggetemi se sbaglio questo è un esercizio esame di DeFi esercizio numero uno allora io li sposterei con Ren magari su Polygon oppure su ma su Polygon non è malaccio secondo me allora su Ave per esempio vediamo allora su Polygon in realtà c'è QuickSwap come primo step da fare perché io faccio BTC Ren BTC su Polygon il Ren BTC li devo convertire in VBTC per metterli a collaterale quindi devo usare Curve Polygon Curve dove c'è il pool Ren BTC VBTC se non ricordo male un passo alla volta ce la faremo allora dov'è 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 Ren BTC VBTC eccolo qua quindi poi con i VBTC io li metto su Ave a collaterale chiedo un prestito di USDT o USDC oppure DAI la vado a depositare su qualche exchange dunque Binance accetta i depositi su Polygon mi pareva di sì ditemi datemi un ping veloce se Binance accetta i depositi di stable su Polygon perché in tal caso lo deposito lì lo cambio in Luna prelevo su Terra Station swap in UST e poi vado su Anchor e questo mi sembra il passaggio più più ovvio altrimenti devo breggiare da Polygon a Sima Solomatic si Polygon Sol e TRX ok sì ma allora mi tocca convertirli in Matic tocca convertire in Matic USD cioè vado deposito collaterale VBTC prelevo chiedo un prestito di stable la converto in Matic su Quickswap vado a depositare Matic su Binance converto in Luna prelevo converto in UST e deposito su Anchor vi viene in mente qualcos'altro mi sembra la strada minori fees ecco penso e così è l'unico modo che sei esposto su hai un debito instable e tu hai collaterale VBTC e quindi il discorso è sempre quello e ci sono un po' di giri da fare ma le fee non sono neanche tanto alte in realtà perché tu ti muovi tramati il problema è tornare indietro per tornare indietro devi fare i passi al contrario UST lo cambi in Luna depositi Luna cambi in stable lo porti su Matic sblocchi il collaterale e ti viene a mancare la liquidità per riequilibrare in caso di dump di BTC e devi avere un loan to value molto basso molto basso come loan to value perché altrimenti c'è un rischio di liquidazione non devi farti liquidare quello è poco ma sicuro per tornare indietro ti serve la macchina del tempo tienili su Binance che ti dà il 3% ma non è che sia un granché il 3% e no altrimenti per BTC piuttosto si utilizzano le Cefai ci sono le c'è c'è Ledn c'è BlockFi c'è Crypto.com quindi lì si può è più semplice cioè non c'è da fare tutti questi passaggi dove prendere il token di Convex e al momento Convex mi pare che non sia sui principali exchange è su vabbè sui DEX su Uniswap sarà immagino oppure era su Hotbit MarketCap vediamo mi pareva cioè su Uniswap sono abbastanza sicuro cioè sono sicuro CVX vediamo Market ah su Gate io e Sushi è uniswap altrimenti Sushi è dove c'è più volume curiosamente quindi sia Hotbit e altri insomma altri exchange minori io forse userei ah beh sì però tu mi dirai giustamente ci sono le fidi Ethereum però piuttosto che andare ad aprire un account su QuestExchange non lo so cosa sarà 20 dollari uno swap non è che faccia proprio piacere però non lo so ragionaci ragionaci poi 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 riguardo CRV CVX e Talk hai intenzione di holdarli ottenendoli sulle piattaforme DeFi o acquistarli direttamente ma hai anticipato un il video prossimo che farò che era la mia strategia per un eventuale bear market ma non solo in realtà che è il farm to accumulate ovvero il redirezionare i flussi dei profitti da farming su coin un attimino più osè ok quindi non le classiche coin pilastro del portafoglio che sono quelle che conoscete bene Bitcoin Ethereum Luna Solana BNB FTT ma andare a cercare qualche coin come può essere CVX CRV e Talk con un attimino più di rischio ok quelle coin che hanno un profilo di rischio rendimento interessante per i motivi detti ma che appunto hanno un livello di rischio potenziale volatilità più alta questa è un po' la ragione ciao Luca quanto fa incazzare Luna che anziché scendere un pelino per accumulare se ne sbatte e continua per la tangente ragazzi non so che dire veramente è una roba atroce ma oggi sta assorbendo non bellissima la candela di oggi non bellissima potrebbe essere un top locale se domani va a continuare in questo modo speriamo io lo spero in maniera genuina perché l'estensione non è mai bella questa è una regola che vale sempre parliamo della live di ieri da brividi con Daniele ragazzi Daniele da prendere appunti eravamo tutti lì ad ascoltare così sì interessante interessante comunque io mi son fatto il riassunto delle cose da portare a casa dalla live di ieri in sostanza ha detto che con Wonderland faranno cose folli quindi in sostanza diventerà un venture capital decentralizzato dove finanzieranno progetti emergenti e non come i venture capital che poi lo fanno per motivi di pump and dump cioè il venture capital è una, due, tre, quattro persone tipo i launchpad anche stessa cosa quelli launchpad tipo non so pink sale quelle robe lì sono delle sorte di venture capital ma ci saranno dietro tutti gli holder di time di memo memo e time e di conseguenza un venture capital decentralizzato in mano a una governance molto ampia e quindi si potrà scegliere votare chi vuole cosa cioè finanziamo questo finanziamo quello si crescono le riserve e è tanta tanta roba veramente sta diventando sempre più un progetto a vedute ampissime cioè veramente visionaria come cosa e quindi il discorso che facevamo anche ieri è che Wonderland se lo prendi a sé no lo prendi e lo isoli è un ponzi perché di fatto tu dici ok finché c'è finché entra liquidità sale quando smette di entrare liquidità la gente fa cash out scende ma se tu a questo aggiungi della domanda data da cose come questa integrazioni con altre defi innovazione no questo discorso di finanziare di creare di investire in qualche modo tu di fatto stai creando della domanda e del valore che non deriva solo dall'APY per la liquidità e per la governance di questa DAO anche la governance non dimenticate l'importanza ieri ve l'ho spiegato del potere di voto in una governance soprattutto se questa governance diventa importante nel mondo defi non dico che sarà un altro curve ma chissà ma Olympus DAO sta iniziando ad arrivare molto in alto come potere no sulla defi e se c'è un'altra su cui potrei mettere la firma probabilmente a Wonderland ma proprio per le persone che ci sono dietro poi l'altra cosa che è emersa è su sushi diceva Daniele che adesso lui è entrato in sushi insomma a gamba tesa nel senso vuole importarlo nella frog nation quella che chiama frog nation che ha quell'insieme di DAP di piattaforme DeFi che si integrano poi tra loro figata pazzesca diceva che vuole creare un DEX basato su order book non so se qualcuno di voi ha mai usato i DEX su Solana quelli basati su Serum vi faccio un esempio Serum in sostanza è un order book decentralizzato che c'è in Solana al quale si appoggiano poi delle UI come ad esempio Bonfida aspettate il DEX Bonfida eccolo la cui interfaccia è quella di un CEX ok guardate abbiamo la scelta del pair qua in alto vado a scegliere il pair REUSDC ad esempio c'è buy e sell limit buy market buy vedete c'è addirittura immediate or cancel post only quindi anche a un livello abbastanza avanzato ci sono addirittura i perpetual anche su Bonfida perps guardate e questo è on chain è su Solana perché Solana lo permette per la sua velocità non indifferente ok qui addirittura sui perpetual è possibile mettere gli stop cioè c'è veramente un livello elevato di come si può dire di avanzatezza ecco è molto avanzato come exchange e l'obiettivo che diceva che Daniele ha è di portare questo su Sushi però utilizzando come chain chiaramente non Ethereum dove è impossibile avere una frequenza di operazioni simile da creare un order book ma Phantom è molto fan di Phantom e quindi che dire Phantom è stata l'altra coin che ha hypato abbastanza poi un'altra cosa che ha detto è su Atom era estremamente bullish su Atom diceva che nel 2022 Atom se aggiustano un po' la tokenomics potrebbe spingere veramente tanto che sono un po' le cose che abbiamo detto anche noi il discorso dell'interchain security dare uno scopo ad Atom stessa e poi cos'altro c'era ah sì un'altra cosa che arriverà almeno io ho capito così correggetemi se sbaglio il token di Wormall Wormall bridge quindi se magari lo airdroppano a chi brigia magari due o tre brigiatine facciamole su Wormall no schifo non fa e questo è un po' il riassunto dell'alpha di ieri ecco questo è quanto e Cardano sta sperimentando la DeFi si sveglieranno mai non so che dire comunque no lo trovate la live la trovate sul canale dei ragazzi di Coinsquare è ancora lì in particolare l'ultima ora e che è la parte appunto con Daniele bene come mai CVX si trova in terza pagina di CoinMarketCap nonostante abbia un miliardo e mezzo di capitalizzazione bella domanda non ne ho idea non ne ho idea aggiornamenti sul tuo portafoglio non ce ne sono ragazzi miei non ce ne sono non ce ne sono assolutamente è quello è sempre quello quei cippini che saltano a destra e a sinistra ma è sempre quello no scherzi a parte adesso volevo fare un video lo faccio credo martedì prossimo perché domani c'è il prossimo episodio del corso sulla DeFi che parliamo dei DEX quindi non perdetevelo mi raccomando e Spooky Swap su Phantom non ha l'order book nella modalità esperto vuotarsi ma su Phantom so che si può si rie cioè è fattibile quindi ha detto proprio che ha usato sceglie quella chain perché ha una decentralizzazione comunque decente e anche una scalabilità che permette di farlo mi sa che avrei da ribilanciare un bel po' per via di luna Romdau ci sei ancora dentro o sei uscito sono ancora dentro sono ancora dentro quelli lì sono come si dice discorsi di non ha senso dire dentro fuori in breve il ragionamento da fare è su quello adesso mi mangio le mani perché ho visto pure Redacted e mi veniva voglia di cippinare anche lì ma non lo so non lo so non so che dire bisogna riflettere bisogna riflettere perché io volevo sinceramente mi sarebbe piaciuto un bel bear market perché mi dà un attimino di tempo per riflettere sull'allocazione e sulla possibilità di migrare un po' di flusso di capitale su coin come CVX e CRV a prezzi un attimino bassi più bassi no? e quindi era l'ideale comunque niente adesso terminiamo con 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 un paio di graficozzi i graficozzi delle altcoin e poi direi che ci salutiamo assolutamente ma prima di terminare con i graficozzi delle altcoin vi faccio la scillatina a blockfi che lo sapete non sto bene se non ve la faccio ogni tanto visto che si parla sempre di cefai di semplicità insomma se uno vuole la semplicità e la tranquillità di un'azienda comunque di un certo spessore c'è blockfi così come anche altre però io vi voglio scillare blockfi oggi perché c'è la promo fino a 250 dollari in bitcoin per il primo deposito per i nuovi utenti in particolare se depositate una cifra che è all'interno di questi scaglioni avrete e la holdate per almeno 30 giorni avrete un bonus pagato in btc di questa entità e blockfi è molto sicura lo sapete è il top level parla con i regolatori ha tutto in regola sede in america compliante con le normative dei regolatori locali quindi non è la piattaforma esotica ecco quindi questo è il classico modo più sicuro per mettere a rendita in cefai le proprie cripto e vi lascio il fantastico REF visto che non può mancare assolutamente e adesso andiamo a finire i nostri graficozzi partendo da Ethereum Ethereum che è sempre qua guardate che sta lateralizzando da capire come da capire se con higher high e scusate higher low e lower high quindi accumulazione o se andrà a fare adesso un equal low e quindi un possibile triangolozzo così sta di fatto che Ethereum è molto interessante perché si trova sopra vedete alla resistenza quindi ha rotto la resistenza e quindi si potrebbe addirittura azzardare un long preventivo con stop in caso di perdita degli 0078 qua vedete se ritorniamo qua giù è invalidata altrimenti noi ci basiamo sull'accumulazione per un'altra leg up è un po' quello che avevano detto anche l'ultima volta non è cambiato molto perché adesso è un po' laterale volumi carenti c'è da vedere un po' la prossima onda del mercato in che direzione andrà perché la total market cap guardate adesso sembra aver rotto il downtrend quindi abbiamo oppla questa cosa e adesso dobbiamo vedere cosa combiniamo quindi se iniziamo a lateralizzare qua dentro se andiamo a fare un retest e poi ritorniamo giù quindi spostando la downtrend line un po' più avanti oppure se andiamo a recuperare no scusate se andiamo a recuperare questa zona che sarebbe uno scenario un po' più bullish perché recuperiamo un blocco perso e quindi abbiamo una struttura un attimino più rialzista questa è la situazione sul mercato in generale il legger chi l'ha vinto l'ha vinto ho scritto oggi ho rituitato il tweet del vincitore e quindi nei prossimi giorni farò la spedizione di entrambi che per adesso sono ancora qui sorvegliati da Charmander ma a breve verranno spediti e mandati anzi se mi state ascoltando voi vincitori se quando vi arriva vi va di fare un contenuto una storia su Instagram un tweet ok così io vi riposto e siamo tutti super gasati amici io vi ci saranno altri giveaway io ho un paccozzo di Binance di roba di Binance che quasi quasi vi darei a voi perché io ne ho due non so veramente cosa farmene la felva di Binance esatto quello lì mi sa che vola come giveaway lo porta alla Befana dai facciamo così Befana giveaway e siamo sul pezzo e molto bene molto bene adesso c'è un video per spiegarci le parole di Daniele ma le ho spiegate prima ho fatto un mega riassunto ragazzotti io vi saluto la Vince chi ha più sciva chi ne ha meno vorrei dire mamma mia e vi saluto vi ringrazio di avermi seguito di essere sempre sul pezzissimo noi ci rivediamo venerdì per farci gli auguri anche direi e basta passate una buona serata e domani ci vediamo al corso di DeFi puntata 4 sui DEX non perdetevelo alla prossima sono pure non brutti come roba aprendizzata è vero sono veramente fighe le robe di Binance anche di qualità e io le metto ogni tanto sono di qualità bene ragazzi alla prossima me ne vado davvero ciao a tutti ciao a tutti